Oggi la città metropolitana può contare su un sistema di protezione civile solido e organizzato. Che cosa è cambiato in questi 25 anni? Sicuramente abbiamo preso coscienza tutti gli amministratori, compreso le associazioni di volontariato, che è necessario essere allenati, attenti, vigili e sicuramente pronti per non farci cogliere all'improvviso come è successo nel 1994 dove gli eventi ci hanno coinvolto e ci hanno trasportato. Come è cresciuta la protezione civile della città metropolitana in questi anni? Nonostante i tagli che abbiamo subito noi e le altre province della regione Piemonte siamo andati avanti grazie anche ai finanziamenti europei per poter dare quei valori minimali, essenziali che sono proprio quello della prevenzione e della formazione di amministratori locali.